Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i Suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là, dove era prima?» «È lo spirito che dà la vita, la carne, non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento, molti dei Suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con Lui. Disse allora Gesù ai dodici «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo?» Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio. Gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo?» Gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo?»